Ultima edizione di Stadionews in studio, Riccardo Gatto, intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Palermo Beppe Iachini ha presentato così la gara di questa sera contro l'Inter, ascoltiamo le sue parole. Sicuramente è una partita molto difficile per noi, lo dicono le caratteristiche di questa squadra che il Palermo dovrà affrontare con entusiasmo, con organizzazione, cercando di fare una partita, come diciamo spesso noi, perfetta per poter fare il risultato, perché è una squadra che basta o niente, ti può creare fastidio. E sono 25 i convocati dell'allenatore rosanero Beppe Iachini per la gara di questa sera contro l'Inter, l'allenatore rosanero chiama anche Matteo Scassini, protagonista con due gol nelle ultime due partite con la primavera del Palermo. Il centrocampista del Palermo Oscar Ilemarch ha presentato così la gara di questa sera contro l'Inter, quando giochi in Serie A non esistono sfide di ordinaria amministrazione, ha spiegato il numero 10 rosanero, certo l'Inter è una squadra leggenda, contro una piccola sbatti contro la pressione di vincere, con le big invece devi superarti quando l'arbitro fischia, comunque siamo sempre 11 contro 11. L'allenatore dell'Inter Roberto Mancini ha presentato così la gara di questa sera contro il Palermo, i rosanero hanno vinto soltanto una delle ultime sei partite, è vero ha detto Mancini, ma rimangono comunque una buona squadra, anche se in casa ha subito un paio di sconfitte, ha gente di talento e fuori casa ha fatto buonissime partite, non sarà semplice come ogni trasferta. Per tutte le altre notizie, stadionews.it Grazie a tutti! Grazie a tutti!